spiazze spiazze per il milan spiazze per la juve spiazze per la lazio va bene ragazzi adesso vi racconto come mai l'inter è in testa alla serie a ve lo racconto in questo video grande vittoria dell'inter che va in testa con pieno merito battendo l'avversario che in questo momento è l'avversario più insidioso possibile perché la lazio veniva da sei vittorie consecutive squadra in grandissima forma quindi il peggior avversario che potesse capitare in questo momento e l'inter ha vinto ed ha vinto alla grande io ho visto veramente le belle cose grande solidità difensiva dopo quattro partite senza prendere gol l'inter oggi un gol l'ha preso però avete visto anche come perché è stata una una palla deviata su un calcio di punizione dove non ha nessuna colpa andanovic tra l'altro totalmente inoperoso durante questa partita quindi è un è parente di un altro clean sheet questa partita diciamo così partita eccellente soprattutto per i difensori di skriniar veramente molto bene a centrocampo ottimi brozovic ed eriksen sugli esterni molto molto bene perisic e davanti cosa ve lo dico a fare grande prestazione di lukaku e lautaro bene parliamo della partita dopo 20 minuti l'inter va in vantaggio su calcio di rigore un netto calcio di rigore che qualcuno ha avuto anche il coraggio di contestare un calcio di rigore talmente netto da non essere neppure necessario andarlo a rivedere al VAR perché chiariamo subito una cosa quando ci sono degli episodi da rigore il team del VAR va a vedere e se non richiama l'arbitro invitandolo a andare a rivedere l'episodio per cambiare eventualmente la decisione significa che è un rigore a parere del team del VAR che non sempre a zecca per carità però significa che per loro che hanno potuto già rivederlo con vari replay è un rigore netto ok di conseguenza questo non è un rigore discutibile è un rigore netto perché il meccanismo è quello no il meccanismo è quello comunque di fatto falcia totalmente lautaro il difensore poi tocca anche il pallone dopo averlo falciato però è un intervento nettamente da calcio di rigore rigore che poi viene trasformato agevolmente la lukaku devo anche dire che è venuto da una grandissima palla filtrante di prima di ericsson per lautaro martinez è stata una bella azione ci sono stati vari tocchi di prima l'ultimo quello decisivo è stato di ericsson che già poco prima aveva servito un'altra bella palla a lautaro un altro assist che non era stato poi sfruttato perché per la chiusura di un difensore cioè lautaro lautaro ha tentato di concludere col sinistro è arrivata la chiusura di un difensore a quel punto la partita si mette bene per l'inter perché l'inter può giocare chiusa e ripartire e sapete che l'inter ha la possibilità di ripartire molto velocemente con giocatori come come lukaku come barella come akimi come perisic quindi questa è la situazione ideale per per l'inter andare in vantaggio dopo 20 minuti la partita si mette subito bene e devo dire che non ho mai avuto la sensazione che la lazio potesse pareggiare la partita ericsson ha fatto un'ottima partita è stato veramente se non il migliore uno dei migliori molto più coinvolto dai suoi compagni chi diceva che non può coesistere ericsson con brosovic secondo me di pallone capisce poco condivido condivido la frase che disse non ricordo più chi comunque qualcuno disse parecchi anni fa che i giocatori forti vanno fatti coesistere non è che se io ho tre o quattro centrocampisti ce ne ho due fortissimi ma magari specialisti della stessa cosa e due che sono brocchi allora bisogna tener fuori uno di quelli forti no se tu sei un grande allenatore trovi il modo di far coesistere due calciatori così forti in questo caso nell'esempio ecco chiaramente mi sto riferendo a far giocare ericsson al posto di un giardini no mi sembra che fosse abbastanza chiaro comunque lo dico a scanso di equivoci e quindi molto molto bene ericsson molto bene anche brosovic grande partita di brosovic e grandissima partita di perisic che è stato veramente protagonista di una di una partita di sacrificio io non ho mai visto sacrificarsi così tanto e quindi anche per i detrattori di perisic che io avrei schierato all'inizio esattamente come ha fatto conte forse è tempo di di cambiare opinione no non voglio usare il termine chiedere scusa perché non è che mi piaccia molto sta cosa però forse vi siete sbagliati su perisic forse del resto il bayern monaco non è venuto a chiedere d'ambrosio all'intero oppure candreva ha chiesto perisic un motivo ci sarà visto che parliamo della squadra campione d'europa e del mondo devo dire che conte ha messo esattamente la formazione che avrei voluto io quindi con perisic e con ericsson ma andiamo avanti a parlare della partita al 34esimo c'è stata una grandissima chiusura di skriniar che secondo me vale come un gol e non è solo per questo skriniar ha fatto veramente una grande partita è stato il migliore dei difensori la partita è stata una partita molto tattica dicevo con l'inter che difende bassa e fa male nelle ripartenze questa volta però è andata meglio la catena di sinistra della catena di destra quindi la catena di destra brosovi la catena di destra con barella mezzala e akimi ha funzionato comunque però ha funzionato meno bene della catena di sinistra con ericsson e perisic che è andata alla grande infatti gli episodi più importanti sono sono arrivati da lì è partito tutto da lì devo dire che barella comunque sia non è stato magari nella sua miglior giornata però ha fatto comunque una buona partita akimi un po sottotono probabilmente in zaghi si è preoccupato un sacco di di arginare di limitare akimi e c'è anche riuscito però si è preoccupato di arginare akimi e l'inter è fatta di 11 calciatori e quindi c'è stato qualcun altro che ha fatto quello che non ha fatto akimi al 39esimo ho visto un grande contropiede di brosovic ottimo dicevamo oggi che ha servito ericsson il quale ha fatto un cross basso per lautaro che possiamo a tutti gli effetti definire un assist è arrivato però in anticipo reina e quindi non si è sviluppata in modo importante per l'inter quella azione reina è un grande portiere questa è la mia opinione inoltre è molto forte coi piedi probabilmente coi piedi è il miglior portiere della serie a e comunque è valido anche tra i pali questa è la mia opinione di pepe reina in zaghi dicevo si era preoccupato un sacco di akimi ed è riuscito a contenerlo secondo me ha fatto bene perché comunque sia akimi si presentava con sei gol e quattro assist altro che teo hernandez quindi giusta la preoccupazione di zaghi ericsson perde qualche pallone perde qualche pallone però per come gioca ericsson che gioca sempre di prima e cerca sempre giocate di grande qualità ci sta a perdere qualche pallone l'importante non perdere pallone pericolosi che possano dare origine a dei a dei contropiedi per esempio al 44esimo c'è un gran recupero palla di perisic e sugli sviluppi della susseguente azione l'inter segna con lukaku l'arbitro annulla per fuorigioco poi però di fatto viene richiamato dal var e il gol viene convalidato perché non è fuorigioco ecco lì in telecronaca hanno fatto un po di confusione perché hanno detto che il rimpallo avesse sanato la posizione di fuorigioco di lukaku non è esatto perché poi hanno hanno potuto correggersi anche loro lukaku non era in fuorigioco fosse stato più avanti il gol sarebbe stato annullato perché la giocata è una cosa il rimpallo è un'altra cosa di conseguenza gol regolare ma perché lukaku era dietro l'ultimo difensore laziale seppur di poco però comunque gol buono gol giustamente convalidato ericsson a un certo punto sulla sinistra fa questo è un episodio che io penso che sia più o meno verso il 35esimo se mi ricordo bene adesso non mi sono segnato proprio tutto però ha fatto una giocata straordinaria perché si è trovato sulla sinistra giocando la mezz'ala sinistra vicino alla linea di fondo al posto di fare uno scarico io credo per bastoni a corrente ha giocato un no look vedendo brozovic al limite dell'aria che poi non è riuscito a calciare perché è stato contrastato però questa è stata una giocata pazzesca una giocata che poteva fare solo ericsson noi non ne abbiamo in rosa altri che possono fare una giocata del genere una roba veramente di gran classe roba per palati fini io spero che qualcuno l'abbia notata ed apprezzata questa giocata a proposito giocate come questa ma anche l'assist di prima per per l'autaro sull'azione del rigore sono cose che può fare ericsson non sono cose che può fare certamente gagliardini ecco perché forse è il caso di dare più spazio a gente come ericsson anziché gente come gagliardini perché comunque sia ma anche vidal anche vidal perché se parliamo del vidal di qualche anno fa che all'interno non abbiamo mai visto d'accordo ma comunque sia anche vidal ha altre caratteristiche quello che è certo è che io condivido la scelta di conte deve giocare ericsson ericsson deve giocare tutte le partite ok quindi chiariamo chiariamo questa cosa poi può giocare può giocare brosovic e può giocare barella con ericsson perché secondo me sono i migliori i migliori tre i migliori tre centrocampisti che possiamo schierare ma certamente il primo a entrare se uno di questi fosse squalificato oppure se si volessero fare delle rotazioni non sarebbe gagliardini va beh chiusa parentesi comunque avete visto criticavate perisic ed ericsson soprattutto perisic molto criticato da tutti e invece perisic non è non è un calciatore da criticare secondo me ha fatto una grande prestazione al 61esimo c'è stata la famosa punizione del pareggio della lazio con andano vicin colpevole su quella deviazione però già due minuti dopo brosovic recupera palla un gran recupero palla e fa partire con con qualità lukaku che si accende da centrocampo parte ma ricordato veramente adriano ma forse anche più potente forse più potente anche di adriano quando dicevano diventa verde chi guardava le partite chi è magari qualche anno in più si ricorda si diceva in cronaca questo vediamo se diventa verde adriano ecco lukaku è diventato verde pure lui perché diventare verde perché perché è la è la citazione di hulk no per chi non lo sapesse questo di diventare verde emblema di forza e potenza devastante quindi parte da centrocampo con una progressione irresistibile supera nettamente il difensore di potenza e di velocità e serve a lautaro un assist che facilmente viene trasformato in gol molto bene quindi lukaku con un assist molto bene lautaro con un rigore procurato e un gol mi è piaciuta come dicevo la solidità difensiva la squadra in grande condizione fisica è questo che fa la differenza quando vi ho detto che via all'inizio vi avrei riferito secondo me cosa fa la differenza è questo che fa la differenza la condizione fisica quindi un'altra volta citiamo pintus il preparatore gran lavoro di pintus un saluto affettuoso a giammaria marco paolo e stefano che è il cugino di marco e paolo luciano gianni un altro marco che è stato mio compagno di stanza saluto veramente con grande affetto santos e poi saluto anche un sacco di gente che guarda i miei video ma non su whatsapp ma non su su youtube li guarda da whatsapp e poi dopo mi commenta via whatsapp una serie di persone che fa questo saluto anche loro perché guardano anche loro i video quindi iscrivetevi al canale mettete mi piace arrivederci al prossimo video che sarà un video importante perché sarà derby col milan grazie a tutti